c'è una squadra da ricostruire c'è una mentalità da riscoprire da da ritirare fuori bisogna ripartire da zero è questa la verità vi aspettavate forse uno sfogo non lo so ma sinceramente ho finito le parole ho finito le parole c'è da dire soltanto che siamo un mediocre siamo ritornati quelli di qualche mese fa di qualche anno fa siamo ritornati ad essere il milan da sesto posto io ho visto questo primo tempo regalato giocatori demotivati non lottavano per niente su nessun pallone neanche un cenno di ripartenza poi sbagliavamo anche il passaggio da un metro io non so non so e non lo saprò mai che cosa sia successo a pioli e alla squadra lo sapranno soltanto loro ma voi avete perso la dignità avete perso la fiducia mia perché è così ormai siamo diventati una squadra davvero imbarazzante cioè mai visto un milan così imbarazzante da da tanto tempo a questo punto io dico lavoriamo per il futuro pensiamo già da domani a programmare un nuovo progetto senza pioli esoneriamolo a fine stagione perché per me il percorso di pioli finisce qua sinceramente non è un allenatore che può portare avanti il milan non è un più un allenatore da milan dobbiamo essere onesti ci sono anche dei calciatori che secondo me non meritano più di indossare questa maglia o comunque non non sono calciatori che in questo momento sono da milan il milan dell'anno scorso il milan dello scudetto non ha niente a che vedere con questo anche nei momenti difficili l'anno scorso il gioco c'era il gruppo c'era qualche partita la sbagliavamo chiaramente ok però non siamo mai arrivati a questo punto mai per me è così oggi perdere una zero sentite un po questo perdere una zero oggi è è un sollievo per me perché io mi aspettavo una batosta pesantissima ma veramente di quelle pesanti invece per qualche miracolo divino oggi quantomeno quella sedia in porta un attimo si è mossa in qualche occasione ma a parte a parte questo il nulla totale non siamo vivi non non siamo non siamo una squadra in questo momento e quindi c'è poco da da incazzarsi da arrabbiarsi da da commentare c'è solo da fare i complimenti all'inter che ci ha dominati per per tutti i 90 minuti non abbiamo avuto neanche il modo di vendicarci visto anche cosa gira sul web la merda che gira sul web di interistiche pensano soltanto a sfotterci e non non pensano alla loro stagione che comunque non può reputarsi positiva nonostante la supercoppa perché non è così però stanno facendo meglio di noi molto meglio di noi e quindi dobbiamo star zitti chiaramente dobbiamo incassare quindi non c'è neanche questa soddisfazione capite del riscatto no io avrei voluto fare un altro tipo di video non è così quindi rosico sto zitto incasso e basta faccio i complimenti alla squadra che ha giocato il derby come se fosse un derby noi abbiamo giocato se abbiamo giocato non abbiamo giocato tutto qua quindi complimenti all'inter noi non siamo scesi in campo ciao ragazzi ditemi la vostra per me pioli deve essere esonerato stasera e bisogna pensare a un nuovo progetto